allora zio fammi vedere il gioco avvia ok mamma mia la grafica di bloodborne ragazzi mi sorprende possiamo possiamo scusami ma mi sembrava un video che già iniziava andiamo quando già sta fuori va fammi vedere come va 60 62 55 fps fermi però zio schiva mamma mia iniziamo malissimo partiamo malissimo allora locca e schi e schi scappa quello sono io quando mi sveglio al mattino faccio quel verso lì faccio this lamp oh perfetto allora devo dire arrivato a questo punto vedi che gli fa 34 fps quindi il gioco non è proprio stabilissimo ok a cali di frame non indifferenti però sinceramente c'è già così io lo proverei solo per farmi questa zona iniziale che è bellissima lì occhio e lì ti fanno le imboscate ah mio dio quanto quanto lagga vedi 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 da qua di nuovo 60 madonna che bello ragazzi che nostalgia le campane ma lì c'era ma lì non c'era il mostro nella porta mi ricordo più niente ma ecco dove stava ok ok capito ci sta zii ci sta magari bisognerebbe fixare queste zone in cui il frame rate se ne va un po se ne va che poi non ha senso raga ma com'è ma com'è sta storia cioè qui in questo preciso punto in cui non c'è niente da renderizzare fa 26 fps guarda che lag che c'è ah c'è qua vabbè ho capito ci sono le statue i pali però poi arrivi qui che c'è la zona apertissima qua dove dovrebbe laggare tantissimo perché appunto c'è tutto sto panorama 60 boh boh ragazzi non ne ho idea però ci sta funziona un giorno fa un nuovo video dall'inizio del gioco bla 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 i commenti oh i commenti l'amicizia è finita con sony adesso shad che è il nome dell'emulatore del programma è il mio migliore amico no no secondo me questo è il questa è la volta buona che finalmente lo fanno lo portano su pc che sony è così sony devi aspettare che creano il programma per farlo girare su pc e poi la sony ti dice ok lo stiamo facendo capito sono un po' sono un po' abby non sai quanto vorrei vederti bestemmiare su elden ring ma il bello è che io l'ho giocato il bello è che io l'ho giocato ragazzi mi dovrei fare il dlc però sinceramente non ho tempo e quindi non lo faccio è che io l'ho giocato